In questo momento il modello di distribuzione del software è molto particolare in quanto ha saputo sfruttare quello che era il canale già precedente dei prodotti che ha acquisito, dei vendor che ha acquisito integrandoli all'interno del proprio sistema di distribuzione e garantendo un nuovo programma dedicato sia ai nuovi partner, quindi a realtà piccole o medie, sia ai system integrator, quindi con delle attenzioni più particolari in base alle esigenze diverse. Cosa chiediamo ai rivenditori? In questo momento la richiesta principale dei rivenditori è quella di crescere professionalmente assieme a noi. Noi li mettiamo a disposizione dei corsi sia in ambito tecnico ma anche in ambito commerciale perché mentre la parte tecnica tendenzialmente per curiosità, per indole, tende a prepararsi più facilmente anche in maniera autonoma, quello che noi stiamo chiedendo invece è di focalizzare l'attenzione anche sulle capacità commerciali per poter affrontare un mercato di fascia medio-alta che ha bisogno ovviamente di skill decisamente più elevati. Grazie a tutti! Grazie!